Hai presente quelle proprietà uniche che almeno una volta ti sarà capitato di guardare e chiederti ma di chi sarà quella casa? Quanto mi piacerebbe abitare lì? Ciao, un saluto ad Andrea Rocco. Oggi una di quelle proprietà è possibile comprarla. Da qui hai la città di Sarerno ai tuoi piedi, raggiungi il centro in due minuti e hai l'accesso diretto per le auto. È un indipendente su due piani, circondato da circa 12.000 metri quadrati di giardini, tra piante di agrumi, macchia amerranea e olivi. In più hai varie pertinenze e delle dependenze. Ti permetterà di avere la massima privacy, parcheggiare 1, 2, 3, 10 auto e rallizzare il sogno di vivere in una delle ville più iconiche della città. Vuoi vederla? Ecco. Ciao, ciao! Grazie a tutti. stupenda vero dal 9 aprile potrai vederla e portarci la tua famiglia per non perdere notizie di proprietà come queste iscriviti al mio canale youtube e alla pagina facebook andrea ruocco immobiliare se vuoi altre notizie su questa proprietà chiamami oppure viene mai l'agenzia ciao